Allora, io direi di iniziare solo per darvi appuntamento a giovedì prossimo con un film inedito in Italia di Ulix Seild dal titolo Import-Export. Ci sarà Matteo Marelli di UZAC e di Cineforum. Vi do appuntamento, intanto ci vediamo il film, poi vi do appuntamento a dopo, restate, perché insomma avremo l'opportunità di discorrere con Giulio e Alessandro. Io intanto do la parola a Nicola Curzio che presenta Giulio Sangiorgio e Alessandro Baratti, insomma dopo cercate di esserci perché sicuramente la discussione sarà interessante. Grazie. Allora, brevemente perché siamo un po' in ritardo. Vabbè, credo che sia superfluo dire, ricordarvi che questa è un'iniziativa, una rassegna che prende forma da un libro che si chiama Il film in cui noto una febbre, dieci registi fuori dagli schermi e anche degli schemi. Ed è anche superfluo ricordare che quindi il ringraziamento va alla Puglia Film Commission e Caratteri Mobili che hanno organizzato questa rassegna. Come avrete notato in questo libro, che ormai credo molti di voi, spero abbiano già letto e avuto modo di leggere, il saggio dedicato a Bruno Dumont, che è il regista a cui è dedicato l'incontro di stasera, è scritto da due autori, due critici, che sono appunto Giulio San Giorgio e Alessandro Baratti, quindi scritto a quattro mani. Chi sono i due critici che ospitiamo qui stasera? Bene, Giulio San Giorgio è redattore presso FilmTV, che è un settimanale che abbiamo già nominato, è il settimanale di cinema che è trovato in edicola più diffuso, se vogliamo, sul nostro territorio, nonché di spietati.it, che è una rivista invece di cultura cinematografica online, di cui tra l'altro è il redattore anche Alessandro Baratti. Comunque Giulio collabora anche con altre riviste online, come Filmidee di recente e Duellanti, che non è online però, che è cartacea, e dunque vediamo se ho dimenticato qualcosa, no, e poi organizzo una serie di rassegne interessantissime sulla storia del cinema all'ECCO, capire la storia del cinema, se vi trovate all'ECCO, mi pare che l'incontro ci sia domani, quindi potete prendere un aereo, forse ci arrivate in serata, e quindi anche sul territorio, in Lombardia, si prodiga per diffondere il cinema, un po' come facciamo anche noi qui stasera. Alessandro Baratti, come dicevo, invece è un redattore di spietati.it e ha preso parte, come tra l'altro anche Giulio, ad un'altra serie di pubblicazioni legate al cinema, a parte che da anni collabora anche con dei festival. Due parole su spietati.it, che è la rivista che li lega, è una rivista online gratuita, esattamente come Uzzac, tra l'altro Alessandro Baratti ha collaborato con Uzzac con un bellissimo saggio, Uzzac, lo trovate sull'ultimo Uzzac 9 online gratuito. Dicevo spietati, come Uzzac è libera, fruibile, gratuita, la trovate online, e tra le tante sezioni viene una anche che accomuna le due riviste, che io giudico la più interessante. questa sezione negli spietati si chiama film invisibili, gli invisibili in Uzzac cose mai viste, sono delle rassegne che un po' riflettono ciò che si cerca di fare con questa rassegna qui, cioè offrire, dare l'opportunità di conoscere un cinema assolutamente inedito nel nostro paese. Quindi trovate una serie di recensioni di pezzi di articoli molto interessanti su film bene o male comunque reperibili, secondo altre strade che ora non sto qui a sottolineare, comunque diciamo le trovate online o comunque sul mercato straniero, sono film che bene o male si riescono con un po' di forza di volontà ad avere, e questo dicevo lo fa anche Uzzac con la sezione cose mai viste. Io appunto anche perché il tempo è poco cedo la parola ai due, non so chi inizierà, inizia Giulio. Io inizierei, cioè spiegateci poi Bruno Diomond ha fatto sei film, dopo aver lasciato la cattedra perché lui è un professore di filosofia, perché avete scelto il suo terzo lungometraggio, 29 Palms, non so se lo volete dire subito o comunque più tardi, però inizierei con questa domanda. Buonasera a tutti. Allora, perché abbiamo scelto 29 Palms e chi è Bruno Diomond? Abbiamo scelto 29 Palms perché è un film terroristico, io ho l'erremoscia quindi magari mi dà fastidio che dica terroristico, però è il film più radicale forse di Bruno Diomond, quello che è forse anche il suo film più eccentrico, che però parte da un dato di fatto che credo conosciate tutti, cioè Bruno Diomond in questo film, decide di partire da quelle che sono le attese, le abitudini di uno spettatore medio, abituato al cinema americano. e quindi si confronta, lui autore rigorosissimo, autore di formazione filosofica, che però si libera prepotentemente della filosofia e di qualsiasi sovrastruttura intellettuale. Diomond dice di essersi stancato delle ideologie e delle parole, e che per lui il cinema è un cinema soprattutto di corpi e di paesaggi. In questo film vedrete il deserto americano soprattutto, il deserto americano che è un concentrato di storie, storie che sono state raccontate dalla storia del cinema americano, che è il cinema dominante, un cinema che Dumont considera anche imperialista, se vogliamo, e lavora su questo paesaggio asciugando totalmente le storie che questo deserto può proporre, quello che noi chiediamo come spettatori ogni volta che vediamo il deserto americano. Noi siamo abituati ad associare ad una scenografia, ad un ambiente delle storie, ecco in questo film non troverete nessuna di queste storie. Questo perché? Perché Dumont è un regista che lavora di sottrazione, il nostro saggio sul film in cui nato una febbre si chiama del subrealismo, che è una definizione veramente abbastanza campata per aria, in un certo senso. Del subrealismo perché? Perché Dumont è un regista che parte dalla realtà e non aggiunge nulla alla realtà. Non è un regista che carica la realtà di significati, non è un regista che illumina la realtà con certe deformazioni fotografiche, un regista che sdegna assolutamente il bello, non crea delle immagini belle, non lavora sulla realtà per abbellirla, ma anzi lavora appunto di sottrazione. Il suo cinema è un cinema che sottrae allo spettatore per lasciare quella che è una realtà primitiva. Non si può che il suo cinema sia un cinema realistico, un cinema che parla della realtà, parla di qualcosa che sta sotto la realtà, di qualcosa che è al nucleo pulsante, al cuore della realtà. E questo come lo fa? Lo fa togliendo allo spettatore quelle che sono le sue attese. Questo film è un film che parte come potrebbe essere un road movie, una macchina in mezzo al deserto. Se il road movie nella storia del cinema americano è un genere di formazione in cui in un viaggio i protagonisti assumono delle... imparano qualcosa, hanno un processo di formazione vero e proprio. In questo film non c'è nessuna formazione. È un film che gioca, che trasforma il paesaggio americano in un loop di questo trasporto, di questi personaggi in mezzo al deserto. È una storia d'amore dove non c'è nessun sentimento, dove non c'è erotismo, non c'è nessuna costruzione sociale. L'erotismo, se vogliamo, è una costruzione che si va a creare sopra la pura, mera sessualità. Qui c'è solo il sesso, il sesso ottuso, la pura presenza dei corpi. Questo film è un film dove quello che è al centro è il mistero della presenza dell'uomo senza nessuna sovrastruttura intellettuale. Dumont è un regista profondamente antintellettuale, un regista che, nonostante possa essere stato tacciato durante gli anni, soprattutto dalla critica italiana, di un certo onanismo e di un certo cerebralismo, è in realtà un regista assolutamente contro qualsiasi intellettualismo, o contro qualsiasi sovrastruttura. Un regista che lavora sui corpi degli attori e non sulle narrazioni canoniche del cinema, sulle abitudini, sul divismo degli attori. Uno dei suoi progetti folli, ma realizzati, è un film di fantascienza con Brad Pitt o Tom Cruise, in cui Brad Pitt e Tom Cruise non sono più gli attori che portano il loro concentrato di storie, quindi quello che noi ci potremmo aspettare da Brad Pitt o da Tom Cruise, ma avrebbe voluto fare, cosa che non è mai riuscito a fare, un film di fantascienza in cui Brad Pitt e Tom Cruise sono solo il corpo di Tom Cruise e di Brad Pitt, quindi qualcosa di opaco, totalmente sottratto a quelle che sono le attese dello spettatore. Ecco, questo film è un film terroristico perché non vi dà in nessun momento quello che voi attendete. È un film che gioca contro la narrazione, gioca contro le attese, gioca contro quello che noi vogliamo da quel deserto, vogliamo da quella storia d'amore. È un film che veramente ha terrorizzato anche il pubblico ed è il film che ha creato il divorzio tra la distribuzione italiana e Dumont e è anche per questo che l'abbiamo scelto. Non so se vuoi dire qualcosa a tu. Sì, dopo questa bellissima introduzione vorrei innanzitutto ringraziare Caratteri Mobili, la Puglia Film Commission e Uzzac per la fiducia immeritatamente accordata. Vorrei semplicemente dire che ero a Venezia nel 2003 al Palabiennale, probabilmente si chiamava ancora Palabiennale in quel periodo, quando il film di Dumont, 29 Pants, è stato presentato al pubblico e non è stato oggetto, come dire, di manifestazioni di dissenso, di disapprovazione, è stato letteralmente linciato. nel senso che c'erano risate di scherno, applausi sarcastici, unulati, feroci, fragorosi, delle manifestazioni di, come dire, intransigenza sconcertante. In realtà credo che, paradossalmente, questa sia stata la reazione più involontariamente esatta al film. come dire, ha risposto per le rime al film. Il film, secondo le intenzioni di Bruno Dumont, è un film amorale, selvaggio, barbaro. Il pubblico non ha fatto che rispondere con la stessa, diciamo, attitudine, irriflessa, istintiva e selvaggia che il film ha scatenato. Ma è esatta la reazione, non soltanto per questo motivo, ma anche perché mette in luce il carattere abietto del cinema di Dumont. È proprio abietto nel senso etimologico del termine. Abiectus è il participo passato di abicio. Ab e iacio. Getto lontano da me. Respingo. Esattamente che cosa si respinge? Si respinge qualcosa che è moralmente indegno, spregevole. E questa repulsione ha a che fare con qualcosa di molto profondo, con una rivelazione, con l'apocalisse, cioè l'apocalisse intesa anche qui in senso etimologico, apocalipsis, rivelazione. Il film di Bruno Dumont che state per vedere mette in scena l'apocalisse, l'apocalisse del senso. Buona visione. Applausi